Dopo una segnalazione arrivata all'Asur di Fano, agenti del corpo di polizia municipale coordinati dalla dottoressa Annaritta Montagna, in collaborazione con il nucleo operativo della compagnia guardia di finanza di Fano e personale dell'Asur, hanno eseguito un sopralluogo in un'abitazione fanese dove hanno rinvenuto materiale comprovante l'esercizio abusivo dell'attività di tatuatore, in assenza però degli specifici requisiti previsti dalla legge. In particolare gli agenti hanno ritrovato un'apparecchiatura elettromeccanica con macchina e pistola, manipolo e puntale, aghi monouso, vaschette e cappucci per pigmenti, guanti e lamette monouse, oltre ad altro materiale inerente all'attività di tatuatore. Il soggetto, uno sconosciuto però al fisco è stato sanzionato con un'ammenda che va da 1000 a 10.000 euro per mancanza della segnalazione certificata di inizio di attività e con un'altra multa che va da 1000 a 10.000 euro per l'assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento. Il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi è la conclusione di una attenta attività di indagine portata avanti dal personale della polizia locale in questi ultimi mesi anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici mirati ad acquisire immagini e video, attraverso i social network, nonché attraverso controlli mirati sul posto per accertare la localizzazione dell'effettivo esercizio abusivo dell'attività di tatuaggi. La scoperta del tatuatore abusivo rientra nell'ambito di tutta una serie di controlli del corpo di polizia locale che esegue costantemente a difesa della salvaguardia e della salute delle persone.